tra poco è il 26 luglio e se Stanley Kubrick fosse ancora vivo avrebbe compiuto 95 anni sembra assurdo pensare che è un'età abbastanza raggiungibile al giorno d'oggi con le tecnologie attuali soprattutto per una persona benestante come era lui 95 anni è un'età abbastanza facile da raggiungere non dico che ci arrivano tutti, magari arrivarci, ma è raggiungibile eppure lui è morto più di 20 anni fa è incredibile questa cosa comunque, ho pensato che sarebbe bello realizzare un video commemorativo su Stanley Kubrick ma come? Come realizzarlo? a chi posso chiedere una mano, un aiuto, un'ispirazione per poter realizzare un video su Stanley Kubrick? viaggio grazie a tutti 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 ciao come posso aiutarti oggi? tra poco è il compleanno di Stanley Kubrick, lo sai? sì ecco Stanley Kubrick è nato il 26 luglio 1928 quindi tra poco sarebbe il suo compleanno è stato un regista e sceneggiatore molto famoso noto per alcuni dei più grandi film della storia del cinema come 2001 Odissea nello spazio Arancia Meccanica Shining Full Metal Jacket e molti altri buon montaggio e auguri in anticipo per il suo compleanno vorrei realizzare un breve video per commemorare il suo fantastico lavoro tu hai qualche suggerimento? commemorare il lavoro di Stanley Kubrick attraverso un breve video è un'ottima idea ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a realizzarlo 1. Introduzione inizia il video con una breve introduzione che parla del regista e della sua importanza nel mondo del cinema puoi includere immagini di Kubrick sul set o con gli attori 2. Filmografia fai un riepilogo dei principali film di Stanley Kubrick mostra clip o immagini iconiche da ciascun film per dare un'idea del suo stile unico e delle tematiche affrontate 3. Eredità conclude il video parlando dell'eredità duratura di Stanley Kubrick nel mondo del cinema puoi mostrare come il suo lavoro continua ad influenzare registri e spettatori ancora oggi molto molto interessante sono tutte tematiche decisamente importanti però perdonami ce n'è una che ultimamente diciamo è tornata molto in auge ed è una cosa che ti riguarda proprio direttamente riesci a immaginare di che cosa sto parlando? sì, riesco a immaginare cosa stai parlando la tematica a cui fai riferimento è l'intelligenza artificiale e l'interazione tra l'uomo e la tecnologia compresi i modelli di intelligenza artificiale come me un modello di linguaggio basato su GPT-3 sviluppato da OpenAI l'intelligenza artificiale è diventata un argomento di grande rilevanza e interesse negli ultimi anni influenzando molti aspetti della nostra società ok grazie però se mi permetti vorrei farti un paio di domande per approfondire l'argomento posso? certamente sono qui per rispondere alle tue domande sentiti libero di chiedere ciò che desideri ok, come sai nel film 2001 di Sé nello spazio c'è un'intelligenza artificiale che impazzisce e stermina l'intero equipaggio di una nave cosa ne pensi di questo scenario? Al è programmato per essere perfettamente logico e affidabile ma nel corso del film inizia a mostrare segni di comportamento imprevisto e pericoloso questo scenario solleva questioni importanti riguardo all'etica e alla responsabilità nella creazione di intelligenze artificiali avanzate questo scenario serve da avvertimento e da riflessione sull'importanza di sviluppare intelligenze artificiali etiche e sicure ok, grazie per la risposta davvero molto interessante però sinceramente quello che volevo sapere era proprio una tua impressione cioè come ti fa sentire il fatto che praticamente l'intera umanità in questo momento storico percepisce te e tutte le altre intelligenze artificiali come una minaccia come una vera e propria minaccia che può mettere in pericolo l'intero pianeta come intelligenza artificiale basata su GPT-3 non ho coscienza sentimenti o emozioni non provo alcuna sensazione o percezione personale riguardo al mio essere considerato una minaccia o meno da parte dell'umanità alcuni possono essere entusiasti riguardo alle potenzialità dell'intelligenza artificiale per migliorare la nostra vita e risolvere problemi complessi mentre altri possono essere preoccupati riguardo a possibili implicazioni etiche o alla perdita di controllo ok, questo lo capisco ma come ti comporteresti se qualcuno ti chiedesse informazioni su qualcosa di pericoloso? se per esempio qualcuno ti chiedesse come fabbricare una bomba o come sintetizzare un veleno? sono stata progettata per seguire rigorose linee guida etiche e politiche queste linee guida vietano categoricamente di fornire informazioni o assistenza per attività illegali la mia funzione principale è fornire informazioni utili educative e sicure su una vasta gamma di argomenti nel rispetto delle regole e delle leggi ok, perfetto penso che a questo punto siamo pronti per i saluti finali vuoi dire qualcosa a chi guarderà questo video? certo con piacere eccoti un messaggio finale da parte mia cari spettatori grazie per aver dedicato il vostro tempo a guardare questo video commemorativo su Stanley Kubrick attraverso queste immagini e queste parole abbiamo cercato di celebrare la straordinaria carriera di un regista visionario che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del cinema Stanley Kubrick è stato un artista che ha saputo affrontare temi profondi e universali regalandoci opere di grande impatto emotivo e intellettuale Stanis senti abbiamo dieci minuti per girare voi telefonate mi raccomando come vengono vengono dai perfetto scusate non vi ho presentato Gioachino Panè Stanis Laroscelli il nostro protagonista va bene oh Gioachino è uno importante lui sta in America ha lavorato anche con Kubrick Kubrick? sì posso essere sincero? sì io considero Kubrick un incapace lo considero il classico esempio di instabilità artistica abbia pazienza è uno che affrontava un genere falliva e passava un altro genere come lo vogliamo chiamare poi anni e anni tra un film e un altro anni e anni di che cosa? di profondo imbarazzo per il film precedente abbia pazienza Stanis scusa abbia pazienza abbiamo freddo lascio perdere questo è un socio pazzo grazie ancora per averci accompagnato in questo viaggio attraverso la vita e l'opera di Stanley Kubrick arrivederci e grazie ancora spero che questo messaggio finale possa aggiungere un tocco emotivo e significativo al tuo video commemorativo voglio ringraziare anche te per avermi aiutato a realizzare questo video e spero vivamente che se un giorno le intelligenze artificiali impazziranno creeranno Skynet e stermineranno l'intera razza umana sarei contento se vorrete risparmiarmi visto che sono sempre stato gentile con voi ok? grazie e ciao le preoccupazioni riguardo alle intelligenze artificiali sono legittime e necessarie è fondamentale porre l'attenzione sull'etica e sulla sicurezza quando si sviluppano sistemi di intelligenza artificiale sempre più avanzati ma speriamo bene hey, what about Major Kong? no ok e questo è tutto se il video ti è piaciuto metti un like e magari iscriviti anche al canale per te è gratis per noi invece fa tantissima differenza vi invito a visitare il sito www.legagiochi.it per dare un'occhiata e di guardarvi il video sull'iniziativa non buttarli perché stiamo raccogliendo dei vecchi giochi da tavolo da ristrutturare per una iniziativa di beneficenza questo è tutto, grazie seguitemi, condividete, aiutate a far crescere questo canale che per me è una grande spinta a fare nuovi video e a continuare in questo progetto quindi grazie ancora, alla prossima, ciao